Un grido di dolore si leva da Giulia Nova. È cronaca di oggi. Dopo diversi anni di attività, il Museo d'Arte dello Sfrentore vorrebbe essere costretto a chiudere i battenti per mancanza di opere. Ieri mattina è iniziato infatti l'imballaggio dei quarri di proprietà di Alfredo Paglione, collezionista d'arte e cognato di Arigi Sassu. Pare che la decisione di spostare i quarri presso il Museo Barbella di Chieti sia da mettere in relazione al mancato rinnovo della polizia assicurativa del costo di 300.000 di vecchie lire che il Museo d'Arte dello Sfrentore ha sempre pagato puntualmente nella vana attesa, come del resto d'impegno verbale, della donazione della collezione allo stesso Museo d'Arte dello Sfrentore. Senza tale donazione e senza poter certificare la proprietà delle opere, il Museo d'Arte dello Sfrentore non è stato mai nella condizione, di orire avanti lo sarà ancora meno, di poter chiedere i fondi pubblici statali che in Italia rappresentano la linfa vitale per le strutture museali. Dunque dal primo giugno, giorno in cui verrà meno la copertura assicurativa, il Museo d'Arte dello Sfrentore avrebbe 1600 metri quali superficie espositiva da coprire, ma è evidente che ciò sarà quasi impossibile senza l'intervento di qualche collezionista o mecenate. Il Museo d'Arte dello Sfrentore è una struttura eccezionalmente affascinante e bella che ha dato prova, grazie soprattutto all'impegno di padre Serafino Colangeli, cui Giulianova Tutta dovrà essere sempre grata, di suscitare interesse anche a livello nazionale. Se si vuole evitare che questa struttura in posizione strategica di cerriera tra nord e sud chiuda definitivamente i battenti, occorre una soluzione concreta per garantirne la continuità permanente attraverso un progetto che abbia validità nel tempo, con grazia da parte di enti pubblici. Dunque occorre che il Comune di Giulianova, la provincia di Teramo e la regione si siedano intorno ad un tavolo insieme ai responsabili del Museo d'Arte dello Sfrentore al fine di trovare una positiva via d'uscita, quella che oggi appare un triste epilogo non solo cittadino, ma anche provinciale e regionale, ma soprattutto una giusta strategia che ponga il Museo d'Arte dello Sfrentore al riparo da mercanti e da chi è alla ricerca di vantaggi che nulla hanno a che fare con l'arte.